Ciao a tutti, in questo video parlerò appunto dell'anatomia dei canini. Nei video precedenti ho già spiegato le loro caratteristiche generali. Abbiamo detto infatti che sono i denti più lunghi delle arcate. Delle arcate hanno una radice molto robusta di forma conica, con l'apice spostato in senso distale, e hanno una forma lanciolata. Le loro funzioni, le abbiamo già descritte, sono dei denti monoradicolati e monocuspidati, come abbiamo già detto prima. La loro cuspide però, con il tempo per abrasione meccanica, tende a diventare via via più piatta. Cominciamo a vedere quello che possiamo osservare in questa tavola, che è appunto il canino masciollare, quindi il canino superiore fondamentalmente, e il terzo dente, posto a destra e a sinistra della linea mediana, nell'arcata superiore. Ovviamente questo dente non ha delle anomalie in senso di agenesia, cioè non è un dente in via di estinzione. La problematica più frequente, come ho detto nei video precedenti, è il fatto che questo tipo di dente fondamentalmente tende a rimanere molto spesso incluso all'interno dell'arcata, per varie cause. Se volete poi approfondire l'inclusione canina, ho fatto dei video, diciamo, specifici per questo tipo di argomento, perché il canino comunque comporta diverse problematiche medico-legali, l'inclusione del canino. Rimane incluso anche un po' per il discorso dell'evoluzione della specie. I canini prima erano molto più lunghi, molto più prominenti, proprio per un significato ancestrale di spaventare la prega, ovviamente, e anche di strappare dei cibi molto più duri rispetto a quelli che invece strappiamo noi al giorno d'oggi, che sono molto più morbidi, più raffinati, più sofisticati, perché vengono appunto realizzati su scala industriale. Come possiamo vedere, la faccia vestibolare, fondamentalmente, ha una forma romboidale con un colletto semi-ellittico, e il terzo cervicale, la parte più convessa di questo dente, dove si nutano, come negli incisivi, le creste cervicali. I contorni prossimali, sia il mesiale che il distale, che si osservano dalla faccia vestibolare, sono piuttosto convessi. Quello distale presenta una leggera concavità ad altezza del terzo cervicale. Il contorno occlusale è formato da due lati, detti appunto costa cuspidale mesiale e costa cuspidale distale. Il lato, come possiamo vedere dalla vista incisale, dalla vista occlusale, qua è uguale a chiamarla in entrambi i modi, si può osservare fondamentalmente come il lato distale risulta essere più lungo di quello mesiale. Questo ha delle implicazioni cliniche molto importanti, per esempio in ortodonsia, perché applicare il bracket sul canino e riscontrare il centro della corona clinica sul canino risulta essere molto difficile, proprio perché il lato distale è più lungo di quello distale. Tornando alla faccia vestibolare, nel terzo occlusale sono molto più evidenti le due depressioni che formano i tre lobi, il lobo mesiale, il centrale e il distale, dei quali il più ampio, ovviamente, come possiamo vedere, è il lobo centrale. Il mesiale e il distale tendono ad essere più piccoli, chiaramente. Dalla faccia linguale o palatale, fondamentalmente, osserviamo il cingolo, chiamato anche tallone o tubercolo, che ha una forma semisferica. È più evidente rispetto a quello al tubercolo al cingolo dei centrali, tant'è che in alcuni individui che presentano delle caratteristiche di anatomia dentale è molto evidente, alle volte forma addirittura una cuspide. Esso si prolunga verso il contorno occlusale attraverso un rilievo di smalto che è detto rilievo longitudinale. Ai lati prossimali troviamo le due creste marginali, mesiale e distale. La faccia mesiale e distale, quindi le facce interprossimali, fondamentalmente hanno una forma di un triangolo isoscele e sono fondamentalmente sovrapponibili tra di loro. Dalla vista occlusale possiamo osservare come la cuspide è spostata più in senso vestibolare, si possono osservare i tre lubi della faccia vestibolare, le creste marginali e poi anche il cingolo della faccia linguale, fondamentalmente.